Chiari di luna all'orizzonte per Tesla, la celebre casa automobilistica specializzata in veicoli elettrici ad alte prestazioni. Stando ai contenuti di una mail interna riportata in esclusiva da Reuters, l'amministratore delegato Elon Musk avrebbe chiesto ai dirigenti un blocco almeno momentaneo nelle assunzioni, dicendosi inoltre convinto che la compagnia dovrà tagliare circa il 10% della forza lavoro. Il che, in un'azienda che in tutto il mondo, Europa inclusa, conta circa 100.000 dipendenti, si tradurrebbe in un tornado da 10.000 licenziamenti. La ragione per questa nuova intemerata del turbolento Musk, che soltanto la scorsa settimana aveva esortato i suoi dipendenti ancora in telelavoro a tornare in ufficio, ad andare a fingere di lavorare altrove, è quella che il tycoon ha definito una pessima sensazione sull'andamento dell'economia. Il riferimento, seppur non esplicito, è alla spinta recessiva che guerra, inflazione post-pandemica e crisi dei semiconduttori finiranno per esercitare sul settore dell'automotive. Sta di fatto che Musk, che a Berlino ha aperto la sua ultima Gigafactory, dovrà ora vedersela con un mercato del lavoro molto più sindacalizzato rispetto a quello nordamericano. La sua ultima sprezzante mail sullo smart working è già stata rispedita al mittente dai sindacati tedeschi, che hanno esortato i lavoratori ad opporsi alla decisione.